C'è un rapporto stretto e continuo tra tecnologia cinematografica e campo medico. Che cos'è tutto questo? È tracotanza? È ibris? O questo concetto non ci è forse sempre più estraneo? Il paziente a volte è questo documento che ci rende consapevoli di noi, dei nostri limiti, dei nostri presudizi, che potrebbe accompagnarci anche a superarli. Quindi anche la tecnologia e l'uso che ne facciamo sia una scienza di base, sia l'informatica, sia la tecnica, e debba essere utilizzata, e debba essere integrata per tutto il resto, per fare emergere sempre l'uomo come fu concentrato in tutto ciò. In particolare, la parte emotiva e creativa dell'uomo è vista come contrapposta alla stretta logica calcolante dei robot. Esiste già un pensiero sulla disciplina di questo mondo tecnologico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.